Summer Black Friday 1 euro, gran finale. Fino al 4 luglio, sconto del 30% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Perché 1 euro. Batte, forte, sempre. Tigelle mulino bianco, pronte da scaldare in padella e farcire come vuoi. Mulino bianco, c'è un mondo più buono. Sono arrivati i pampiattini mulino bianco, collezionali tutti. Quando arrivano i disturbi gastrici, avere un alleato può fare la differenza. Biochetasi, pronta ad aiutarti quando serve. Azzì, ma che è? Uno vale l'altro. Ma che è il vero affare, Dash Power. Rimuove le macchie anche a freddo e in cicli brevi. Così risparmi fino al 60% di elettricità. Che power! E' un vero affare, Dash Power. Fede, pronta a mettere la pettorina a quattro cani in tempi record? Prontissima! Abbra, vieni! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustenium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustenium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustenium Plus 50 più con Actifull e Menarini. Un pedale genera azione e scatena una pulizia senza sforzo. Ogni volta che premi, Vileda Turbosmart ruota e strizza e il tuo fiocco diventa più asciutto. Per una pulizia incredibile. Vileda Turbosmart. Vileda. Che fortuna, Heidi! Il suo nido è sui monti, a pedero al suo fianco e le caprette le fanno ciao. Certo, se Heidi fosse connessa con Win3, sai che vita fantastica! Non importa dove sia la tua casa, con il Wi-Fi e il 5G di Win3 hai una connessione affidabile anche in una casa fuori città. Da 23 ore e 99 al mese, vieni nei Win3 Store. Con Win3 ti sorridono i monti e anche la connessione. Win3 semplifica connessioni, energia, assicurazioni. Nuova Kia Picanto. Più picanto che mai. Tua da 11.750 euro, con finanziamento scelta Kia ed eco-incentivi. Scoprila dal 24 giugno durante la Picanto Week in tutte le concessionarie. Kia. Movement that inspires. Vuolo in ritardo. Niente prove. Con la nuova formula di Lenore Amorbidente, ogni scusa è buona per godermi lenzuola profumata fino a una settimana. Provalo con Lenore Perle. Quanto pagheresti per una notte nel tuo hotel ideale? 170, 155, 140 euro. Stessa camera, stesso servizio, ma prezzi diversi. Sei tu a decidere. Alla reception nessuno te lo chiede. Questo è proprio quello che fa Trivago. Trivago confronta i prezzi su centinaia di siti di prenotazione. Se non vuoi perdere ore e ore a cercare, confronta i prezzi con Trivago e risparmia fino a 30 euro a notte. Hotel Trivago In caso di scottature, piccoli tagli, graffi o sbucciature, puoi provare Betadine, che elimina batteri, funghi e alcuni virus. Una volta disinfettata, la ferita può guarire più velocemente e la giornata in famiglia può continuare. Betadine, una linea di prodotti per la disinfezione delle ferite, per rispondere alle diverse esigenze. Ciao Marco. Ciao. Stai installando l'allarme Verisure? Sì, così partiamo tranquilli, sai, con tutti i furti che ci sono durante le vacanze. Così l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo prima che provi ad entrare. Lo sai che ti dico? Lo stanno anch'io. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiamo all'800 949494 o vai su verisure.it Domani dentista, palestra, lavare la mano, sto aspettando, lavare la mano, non farti sommergere dallo stress. Prova il nuovo Supradin Ricarica No Stress. Con la sua doppiazione ti aiuta a combattere lo stress e ricarica la tua energia fisica e mentale. Supradin, l'energia per andare oltre. Pulire punti irraggiungibili, non fare strane acrobazie. Oggi il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sotto sopra. Lo usi su tutto, funziona dappertutto. E per la pulizia e l'igiene del tuo bagno, scopri l'efficacia dei nuovi Chantecler anticalcare e Vici Schiuma Attiva. Chantecler, il gallo del pulito. Con prezzo Aldi Aldi. Frutta fresca e verdura. Fan felice anche l'asciura. Da Aldi, cogli il risparmio su frutta e verdura consegnata fresca ogni giorno. Con prezzo Aldi Aldi. Spendi meno, vivi meglio. Segui La Sette, anche in verticale. Registrati sulle nostre piattaforme per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti esclusivi. Le migliori interviste, i documentari. I nostri contenuti podcast. Tutte le puntate dei tuoi programmi preferiti. La Sette, ovunque con te.